ben giunti da spettacolone intanto avete visto che intro abbiamo speso un sacco di soldi per farla oggi vi voglio presentare questo bellissimo strumento da spiaggia la ruota mulino crescidra che come vedete con una splendida paletta si inserisce nel vassoio sovrastante della sabbia finemente asciutta e la ruota portando la sabbia sulle vaschette continua a girare vedete come funziona bene funziona veramente bene finché a un certo punto non si ferma se si ferma bisogna agire in questo modo leggermente con la paletta dare delle piccole bot cercare di di trovare un inserimento migliore per la sabbia poi darle un pochino più forte che con le buone maniere come al solito si risolve tutto e avete visto la ruota ricomincia con calma perché uno strumento scientifico ricomincia a girare così si usa la ruota mulino crescidra grazie per l'attenzione al prossimo tutorial da spettacolone grazie a tutti